Oggi siamo qui con il Cavaliere del Lavoro Vittorio Tabacchi, Presidente di Commissione Difesa Vista. Sappiamo che Commissione Difesa Vista da sempre è impegnata nel tema dell'informazione e della prevenzione. Quest'anno in particolare è stato presentato un progetto molto particolare sulla protezione solare in collaborazione con Unipro. Di cosa si tratta? Noi da sempre diciamo che l'occhiale da sole non è solo moda ma è anche protezione. Quindi il sole fa male non solo agli occhi ma anche alla pelle. Anzi vorrei dire che la pelle è quella la parte più sensibile e anche più grande che esposta al sole può essere danneggiata. Quindi abbiamo pensato di unire le nostre forze insieme a loro dicendo il sole fa male agli occhi e alla pelle. Facciamo qualche cosa insieme. E quindi abbiamo fatto questa applicazione, questo programma che serve per consigliare gli utilizzatori degli smartphone. Questa applicazione viene mandata gratuitamente sugli smartphone. Quindi sugli smartphone uno può assumere le proprie, dando le proprie identità, assumere tutte le informazioni e le necessità che può avere e ha bisogno per proteggersi contro i danni che possono causare il sole sia sulla pelle sia sugli occhi. In tema invece di prevenzione sappiamo che quest'anno attuerete un'iniziativa con IAPB e Vision Plus Onlus attraverso la quale la cittadinanza di Milano potrà fare dei test gratuiti della vista. Noi è già da qualche anno che proponiamo a tutte le istituzioni questa nostra offerta. Quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo di coinvolgere anche l'IAPB, cioè l'Istituto per la protezione contro la cecità, che è la prima volta che insieme a noi, insieme ad altre associazioni oculistiche e ottiche, facciamo una iniziativa nella città di Milano, cioè attraverso dei camper con degli oculisti di ottortisti a bordo e attraverso una postazione fissa noi apriamo le porte a tutta la popolazione che vuole e desidera una misurazione della vista, un controllo della vista e un controllo anche dell'occhio per il glaucoma, anti-glaucoma, proprio perché quest'anno dall'11 al 17 di marzo c'è la settimana mondiale contro il glaucoma. Ora parliamo un accenno a un tema che a lei è molto caro, ovvero la prevenzione dei bambini invece. Quanto è sensibile l'opinione pubblica su questo tema? Molti sforzi e molta dedizione noi abbiamo fatto per i bambini, proprio perché il bambino è quello che ha più necessità e forse il bambino è inconsapevolmente dimenticato. Quindi la nostra preghiera, il nostro sforzo è fatto verso i genitori affinché portino i bambini a una visita oculistica nell'età prescolare, proprio per evitare i danni che l'ambliopia può causare loro. Pensiamo che il 4% dei bambini italiani soffrono di ambliopia. Speriamo allora che i genitori portino i bambini a farsi controllare più spesso. Grazie mille per essere stato con noi. Prego e buongiorno.